Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella puntata di Chi l'ha visto, andata in onda ieri, mercoledì 15 maggio 2024, Federica Asciarelli ha trattato diversi casi di persone scomparse. Tra questi si è soffermata su Denise Pipitone, la bambina di Mazzara del Vallo scomparsa 20 anni fa, e sui casi di Gianfranco e Simone, vittime di truffe amorose online. Come sempre nel programma, non sono mancati gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ma a lasciare di stucco tutti i telespettatori è stato un altro episodio verificatosi proprio nel corso della diretta. Tra i casi discussi spicca quello di Angelica Roberti, una ragazza di 14 anni scomparsa da Bellegra, Roma, lo scorso 14 maggio. Dopo pochi minuti dagli ultimi aggiornamenti, la conduttrice Federica Asciarelli ha interrotto un collegamento per fare un importante annuncio proprio su questo caso. Angelica Roberti è stata ritrovata. Angelica sta tornando a casa, ha appena scritto al papà e la mamma e il fratello hanno gridato di gioia, ha detto la conduttrice. È un momento davvero bellissimo, ha aggiunto Lasciarelli. Dopo giorni interminabili, i familiari di Angelica hanno potuto riabbracciare tra le lacrime la propria cara. Articolica